La prossima sarà la diciottesima edizione del corso di laurea magistrale in biostatistica, che è l'unico in Italia e tra i pochissimi in Europa esplicitamente rivolta alla formazione della figura del biostatistico. Le quattro domande che più spesso mi sento rivolgere dagli studenti potenzialmente interessati a questo corso di laurea sono le seguenti. Intanto chi è il biostatistico? Che cosa fa? Di che cosa si occupa? A chi consigliamo di iscriversi? Come si studia? Cosa e come si studia? Quali sono le difficoltà che questo corso di studio comporta? Ed infine la mamma di tutte le domande, il biostatistico trova lavoro, trova un lavoro qualificato? Allora proviamo a vederle in sequenza queste quattro domande. Intanto che cos'è la biostatistica e quello è l'obiettivo formativo che noi perseguiamo. Il biostatistico, almeno quello che noi formiamo, è un professionista che è in grado di svolgere funzioni di progettazione, analisi e interpretazione statistica di studi nei campi della medicina e della sanità pubblica. Pensate a quanto sia importante una figura di questo tipo che in collaborazione con altre figure, con altri professionisti, altre figure professionali, collaborano appunto alla messa a punto di studi per valutare chi sono gli individui a maggior rischio di contrarre una determinata malattia, quali sono i farmaci che garantiscono o che offrono maggiori garanzie di guarigione della malattia stessa o ancora rispetto ai piani di vaccinazione, quali sono i piani di vaccinazione che garantiscono una minore diffusione dell'epidemia e protezione degli individui, ma anche una sostenibilità economica da parte di sistemi sanitari che sostengono questi piani. Quindi la figura di biostatistico è una figura centrale in tutto ciò che riguarda gli studi per pianificare meglio la nostra salute, il campo della nostra salute. A chi consigliamo di iscriversi? Beh, intanto a due categorie di laureati. I laureati sono quelli che noi chiamiamo di una laurea quantitativa, ovvero in statistica, matematica, fisica, informatica, economia e altre da valutare, nonché in una laurea biologica, ovvero con una laurea in biologia, biotecnologie, ottica e optometria, farmacia e CTS, medicina, veterinaria, professioni sanitarie e molte altre comunque da valutare di volta in volta. Il consiglio comunque a questi laureati, a chi è in possesso di questo titolo, è di iscriversi, immatricolarsi ad un corso di laurea in biostatistica se sono particolarmente interessati a scegliere la ricerca in questo campo come professione. Mettendo al servizio di gruppi multidisciplinari le proprie competenze, le competenze richieste sono quelle, guardate, sono molto semplici, sono quelle di tradurre un quesito, un quesito clinico di sanità pubblica, quali quelli che prima ho sintetizzato, intanto in un protocollo di ricerca, in secondo luogo in un modello statistico. Ora, questo tipo di professione, la professione del ricercatore in questo campo, devo dire che è bellissima per chi è curioso e per chi ha una forte tendenza ad affrontare ogni giorno campi sempre nuovi ed è anche attirato dalla soddisfazione di contribuire alle conoscenze. La terza domanda dunque, che è quella più difficile, più articolata, proviamo a porcela intanto insieme. Che cosa si studia, come si studia e quali sono le difficoltà che tutto questo comporta? Che cosa si studia? È facilmente detto quello che si studia nel corso di laurea magistrale in biostatistica perché abbiamo detto che se è vero che un biostatistico deve essere in grado di comprendere un quesito, un quesito che è fondamentalmente un quesito di tipo medico, clinico, di sanità pubblica e trasformarlo in un modello, in un modello statistico, per prima cosa deve capire qual è il quesito che gli si sta ponendo. E allora, per chi non ha già queste competenze alla base, ovvero per chi ha una laurea che prima abbiamo definito quantitativa, le cose che noi studiamo e che impartiamo, gli insegnamenti che impartiamo sono quelli che fanno riferimento al mondo biologico medico e della sanità pubblica, introducendo le leggi fondamentali da una parte, ma il linguaggio prevalentemente dall'altra, di questo mondo è stranio a chi ha una formazione esclusivamente quantitativa. Il secondo blocco di insegnamenti, tipo di insegnamenti e di esami sono quelli che fanno parte, che si riferiscono alla metodologia statistica, prevalentemente modelli statistici, sono modelli che approfondiscono quanto già i laureati con una laurea quantitativa hanno già fatto nel loro corso di laurea triennale, ma gli altri, quelli con una laurea biologica, non devono preoccuparsi perché li metteremo nelle condizioni di poter affrontare anche questi insegnamenti di tipo più metodologico. Ed infine il terzo, il terzo tipo di insegnamenti che completa la formazione è l'applicazione dei metodi e dei modelli statistici più avanzati al contesto della biologia, della medicina e della sanità pubblica. Le lezioni frontali dei nostri corsi sono sempre affiancati da intensa attività di laboratorio in modo da garantire insieme a una preparazione teorica una spiccata capacità di analisi e utilizzo dei principali software statistici. Oltretutto il corso di laurea consente di acquisire anche una certificazione SAS, che comunque è sempre molto utile per introdursi nel mondo di lavoro. Particolarmente interessante è la possibilità di svolgere la preparazione della tesi in una delle tante sedi all'estero con cui siamo attualmente convenzionati attraverso una borsa di studio che l'Università di Milano Bicocca offre. Attualmente noi abbiamo studenti che stanno svolgendo la loro tesi in Francia, Regno Unito, Olanda, Svezia, Norvegia, Stati Uniti d'America, Canada. Pur tenendo conto del fatto e premesso che questi due anni non sono una passeggiata e pregherei chiunque di considerarli come un investimento importante della propria vita per il proprio futuro, tutto ciò premesso, l'esperienza ci insegna che gli studenti ben motivati hanno una progressione della carriera più veloce rispetto a quella di altri corsi di laurea, raramente abbandonano e si laureano prevalentemente in media in tempi regolari, ovvero nei due anni normali del corso di studio. Infine la quarta domanda è la figura professionale del biostatistico è richiesta dal mercato del lavoro? Bene, io su questo è la domanda a cui è più semplice rispondere. L'ho detto all'inizio, questo è l'unico corso di laurea in biostatistica in Italia e tra i pochissimi in Europa che va in questa direzione. Il mercato del lavoro, rispetto al mercato del lavoro, la domanda è di gran lunga maggiore rispetto all'offerta, nel senso che sono troppo pochi gli statistici, i biostatistici rispetto a quelli richiesti dal mercato del lavoro e la richiesta da parte di aziende farmaceutiche, aziende di ricerca biofarmacologica, aziende sanitarie locali e aziende ospedali in pratica, ma anche il proseguimento degli studi con dottorati di ricerca e master di secondo livello, l'offerta è molto molto ampia. Tenete conto, si tenga conto che l'occupabilità dei laureati a tre anni dalla laurea è del 93% e si tratta di nostri laureati occupati in un contesto in cui svolgono il lavoro per il quale sono stati formati. Il 7% che manca in realtà è dovuto dal fatto che alcuni studenti decidono di proseguire il loro percorso di studio con un dottorato di ricerca e con un master di secondo livello che non sono considerate professioni e quindi l'occupabilità è totale e il mercato non è ancora saturo. Chiunque si è interessato a saperne di più è intanto invitato a consultare il sito del nostro corso di laurea magistrale, ci si può entrare attraverso il sito dell'Università di Milano Bicocca o direttamente del nostro Dipartimento, Dipartimento di Statistica e Metodi Quantitativi. Il forte consiglio che do è quello di fare un colloquio motivazionale con me, io vi saprò dire se siete veramente così motivati per fare un corso di laurea, per impiegare i prossimi due anni in questo percorso formativo e che cosa dovreste studiare, quali sono le materie che dovreste studiare e gli esami che dovreste fare per laurearvi in biostatistica. Per fare questo colloquio motivazionale vi chiederei di prendere appuntamento, vi do un indirizzo di posto elettronica, l'indirizzo è elisa.gerevini chiocciola unimib.it. La dottoressa Gerevini che è una preziosa collaboratrice del mio gruppo vi saprà dare un appuntamento in modo da poter svolgere, fare un colloquio e parlare di persona, a vedere quali sono i vostri dubbi, le vostre difficoltà e le vostre prospettive. Vi aspetto numerosi, grazie.